Doppio vantaggio Real City, Autorevole rimonta, Borgo Rosso Molfetta finisce con un piro tecnico 2-2 sul sintetico del Paolo Poli, il testa a testa della quarta giornata di eccellenza. Molfettesi che balzano così a quota 6 punti in classifica e conservano l'imbattibilità in questo campionato, diventano 4 invece i punti della formazione foggiana. Parte forte l'11 di casa, Caputti in apertura non becca il bersaglio e la traversa. Poco dopo invece a negare il vantaggio alla squadra di Angelo Carlucci sulla conclusione di Vitale. A segno ci va il Real City, Barrasso sforna l'assist di qualità, Da Silva non perdona e fa 1-0 per il collettivo di Pino Lobolito prima del quarto d'ora. La replica dei Molfettesi è affidata a Ventura, conclusione respinta dall'Uzzardo, cinico e spietato, si conferma il Real City. Alves trova il guizzo che batte De Santis da pochi passi ed è 2-0 al Paolo Poli. Situazione complicata per il Borgo Rosso che però non molla e la riapre. In chiusura di frazione, Rosselli va giù in aria e calcio di rigore dal dischetto. Vitale non sbaglia e dimezza lo svantaggio. Prova in pieno recupero a risabilire le distanze l'11 Foggiano, ma il tentativo di Alves questa volta è impreciso. 2-1 a metà gara, ripresa che si apre con un altro legno per i padroni di casa. Vitale colpisce nuovamente la traversa. Spingono i Molfettesi e trovano l'aggancio prima della mezz'ora, merito del nuovo entrato Kubai, che si procura un calcio di punizione da posizioni interessanti e poi fa centro con una traiettoria perfetta. 2-2. Entrambe le contendenti provano a vincerla. Il Borgo Rosso resta in dieci uomini per l'espulsione di Capskiew. La migliore occasione da tre punti capita agli ospiti in pieno recupero con De Vera, superlativa nella circostanza, però la replica di De Santis. Un punto a testa dunque al triplice fischio. Domenica prossima, per la quinta giornata, Molfettesi di scena in trasferta contro la capolista Manfredonia. Real City, che invece, ospiterà il Polimnia.